Il Comune di Pordenone è tra i 13 partner del progetto europeo Change, percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il progetto è guidato dalla Cooperativa Sociale Itaca, durerà 24 mesi e coinvolgerà i territori di Pordenone e Gorizia nella sensibilizzazione, educazione e formazione per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. In previsione, l'apertura anche a Pordenone di sportelli dedicati agli uomini maltrattanti, gestiti da APS e l'Istrice. Il Comune di Pordenone è l'assessorato alle pari opportunità e fortemente impegnato nel contrasto alla violenza maschile sulle donne. Lo facciamo attraverso un'azione diretta, un'azione di sistema fortemente radicata sul territorio. Sostare dunque l'attenzione in forma preventiva nei confronti degli uomini maltrattanti rappresenta un cambiamento di passo finalizzato proprio ad una nuova cultura. Il progetto Change, percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, è un progetto che è cofinanziato dalla comunità europea di durata di 24 mesi. Prevede tre azioni progettuali importanti. Una, il lavoro con le scuole, quindi i percorsi di prevenzione all'interno della scuola primaria, secondaria di primo grado e gli istituti superiori. La seconda azione prevede una formazione rivolta agli operatori che lavorano in prima linea nel tema del maltrattamento ed una formazione più specifica per gli operatori che lavorano all'interno degli sportelli. La terza azione prevista dal progetto è l'apertura di quattro sportelli nel territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia collocati precisamente nel comune di Gorizia, Pordenone, Treviso ed un altro comune del distretto Pieve di Soligo. Lo stereotipo dell'uomo maltrattante, ossia della persona che ha problemi, fragilità, utilismo e quant'altro sta cambiando. C'è chi presta violenza purtroppo per cultura, per convinzione o per situazione, quindi dobbiamo distinguere gli ambiti. Non è una situazione molto facile perché significa avere degli operatori molto preparati assolutamente. Il primo approccio deve essere un approccio incoraggiante evidentemente. Poi ci vogliono le strutture per ospitare questi soggetti, poi ci vogliono gli strumenti per abituare questi soggetti, per far crescere questi soggetti. Quindi è un investimento molto importante, un investimento sociale che avrà un ritorno anche in temi economici verso il pubblico, nel senso che meno violenza significa anche banalmente meno spese, meno spese per quanto riguarda l'educazione, meno spese per quanto riguarda le carceri. Quindi c'è un ritorno sociale, non è soltanto una questione etica, ma anche una questione di risorse che vanno indirizzate.